Ciao a tutti, oggi parleremo del kit Pinasco T-Force Bifascia per minarelli verticale. Questo è il cilindro in ghisa perlittica, vedete, con luce di scarico ellittica normale senza traversino e senza luci booster. Cinque travasi, due laterali, il qua andà dietro e il travaso di alimentazione. Come mai questo cilindro è migliore rispetto a tanti altri, sia come durata che come prestazioni? Per il semplice fatto che ha un buon numero di alette di raffreddamento sulla canna stessa, come potete vedere sono più grosse verso il centro e più sottili verso i lati, sia a destra che a sinistra. Poi, come possiamo vedere, ce le ha anche nelle sacche di travaso, dalla parte di dove arriva la ventola invece di qua no, giusto per favorire il giro d'aria ed uscire verso la parte posteriore. Come facciamo per farlo rendere al meglio e durare un po' di più rispetto allo standard? Io ho già portato qualche semplicissima modifica, una leggera svasatura dei travasi nell'ingresso, quindi al posto che averli sempre con la stessa fattura di come esce dalla fabbrica, li ho semplicemente appuntiti leggermente. Nulla di che, si fa con una semplice lima o con un dremel da pochi euro. Poi, come potete vedere, lo spigolo in basso e lo spigolo nella parte verticale sono stati leggermente limati, ovvero ho tolto lo spigolo con cui esce di fabbrica. La luce di scarico leggermente lucidata, in modo da favorire la fuoriuscita dei gas e non far sì che si creino dei depositi. Qualche piccolissima lavorata anche qua, ho tolto qualche bava e nulla di più. Togliendo gli spigoli vivi, lucidando lo scarico e facendo a punta i travasi, si ha un piccolissimo incremento della durata. Facendo questi piccoli lavori, possiamo far durare il cilindro un qualche migliaio di chilometri in più, senza stressare il pistone. Altra piccola modifica, nella finestra del pistone, ho leggermente limato lo spigolo esterno, sempre questo per favorire la durata del kit. Abbiamo la testa, tronco conica, con il suo ring. Per 5 euro ho preso anche il pacco lamellare Malossi, adesso lo devo leggermente pulire. Poi abbiamo le due fasce, che come potete vedere sono esattamente identiche l'una dall'altra, sia come dimensioni, sia come componenti, come fattura, scusate. Lamella in carbonio da 0,4, guarnizione di base, guarnizione di scarico, seiger, gabbia rulli, con il suo spinotto. Questo kit andrà abbinato a una Yasuni Z, ovvero il modello base di Yasuni, in quanto non voglio un cilindro, non voglio un'elaborazione troppo spinta, e ho deciso di prendere il modello base, in quanto è molto silenziata, e per me è una marmitta molto molto valida. Ha un buon collettore, non esageratamente largo. Una buona pancia, con un bel controcono, abbastanza lungo, e un bel silenziatore. Questa marmitta non fa rumore, ed è veramente performante. Il tutto poi andrà abbinato a un carburatore dell'orto 17,5, con getto del massimo da 95, getto del minimo da 36, e spillo alla seconda tacca. Un variatore Malossi Multivar, una campana a frizione alleggerita della Stage 6 e ventilata, frizione originale con le mollettine un po' più dure, molla di contrasto leggermente più dura, e tutto qua. Copre i rapporti da Top Performance e cinghia della Mitsuboshi, che è la migliore che ci sia sul mercato. Grazie a tutti. Grazie.